ciao dall'italia ciao da casa uivi la casa di chi ama la lingua italiana la casa di chi vuole vivere in italiano la casa di chi vuole imparare sempre qualcosa di nuovo e anche la casa di chi vuole insegnare sempre qualcosa di nuovo ma qui nella casa di uivi chi impara e chi insegna tutti noi impariamo e insegniamo al tempo stesso qui nella casa di uivi in una classe durante una lezione e nella vita in generale tutti noi impariamo e insegniamo sempre sempre anche quando non sappiamo di imparare e di insegnare tutti noi impariamo e insegniamo magari insegniamo come non si fa qualcosa ma insegniamo sempre impariamo e impariamo soprattutto quando non siamo consapevoli di imparare qualcosa ma adesso dobbiamo capire bene quando usare il verbo imparare quando usare il verbo insegnare lo voglio spiegare potrei anche dire lo voglio insegnare al mio amico bura e a tutte le amiche e a tutti gli amici della casa di uivi un caro saluto al mio amico bura che ho incontrato per la prima volta su tiktok e bura è uno dei pochi che ha accettato il mio invito a passare non per sempre ma a passare da tiktok a youtube perché io dico sempre che per l'offerta di un italiano vero youtube è uno spazio migliore se l'obiettivo è quello di imparare che cosa c'è di meglio qua su youtube c'è un'offerta più ampia ci sono più video e soprattutto c'è lo spazio dei commenti che permette di interagire in maniera più efficace c'è più spazio per scrivere i commenti e c'è per me la possibilità di rispondere con il collegamento a un video o più video dell'archivio di youtube grazie bura grazie per essere qua e adesso parliamo dei verbi insegnare e imparare adesso coniughiamo i verbi insegnare e imparare all'indicativo presente insegnare indicativo presente io insegno tu insegni lui lei insegna noi insegniamo voi insegnate loro insegnano indicativo presente nel verbo imparare io imparo tu impari lui lei impara noi impariamo voi imparate loro imparano passato prossimo io ho insegnato che cosa il verbo è transitivo serve il complemento diretto che cosa una regola per esempio io ho imparato ancora una volta che cosa anche imparare un verbo transitivo ho imparato quella stessa regola prima ho detto che tutti impariamo e tutti insegniamo al tempo stesso sì ma chi ha come obiettivo quello di insegnare per esempio all'interno di una classe durante una lezione chi insegna il maestro o la maestra che in alcuni contesti si chiama anche professore o professoressa e che in maniera ancora più generica si chiama insegnante sia al maschile sia al femminile e l'insegnante insegna e chi impara lo studente o la studentessa in una lezione l'insegnante insegna e lo studente impara l'insegnante insegna che cosa una regola a chi agli studenti il verbo insegnare prevede anche il complemento di termine a chi e quindi è possibile trovare anche il pronome personale complemento di termine mi ti gli le ci vi e poi un tempo c'era anche loro per il plurale c'è un video che parla di questo io posso dire che bura mi ha fatto una domanda mi ha chiesto di insegnargli la differenza tra il verbo insegnare il verbo imparare e allora adesso io gli insegno questa regola gli sto insegnando questa regola uso la terza persona perché adesso non parlo direttamente a bura parlo a tutti e sto spiegando che questo video serve per insegnare a bura la differenza tra insegnare e imparare e spero che bura impari questo è congiuntivo che impari la differenza tra insegnare e imparare bura adesso mi rivolgo a te hai imparato la differenza tra insegnare e imparare c'è un po di confusione tra questi due verbi sorrido perché questa confusione c'è anche per qualche persona di madrelingua italiana che usa il verbo imparare al posto del verbo insegnare allora io dico che gli errori non esistono soprattutto lo dico a chi sta imparando la lingua italiana non preoccuparti degli errori mi rivolgo direttamente a te che mi stai guardando gli errori non esistono un tempo dicevo che dovevamo esaltare gli errori dovevamo fare una festa per ogni errore quanto odio la frase scusa per i miei errori scusa perché cosa tu chiedi scusa quando fai qualcosa di male dagli errori noi impariamo gli errori sono i nostri migliori maestri dicevo io adesso dico che gli errori non esistono ma ammettiamo che esistano va bene gli errori esistono va bene esistono sono i nostri migliori maestri gli errori ci insegnano l'italiano viva gli errori gli errori sono i maestri e il maestro insegna e noi impariamo dagli errori bisogna imparare dagli errori per non ripeterli più certamente ma è possibile ripeterli anche una seconda volta una terza volta una quarta volta nella lingua italiana nell'apprendimento di una materia e nella vita dobbiamo imparare dai nostri errori qualche italiano usa il verbo imparare al posto di insegnare per cui è possibile sentire anche da qualche italiano frasi del tipo per favore roberto imparami questa cosa oppure che cosa ti ha imparato l'insegnante no l'insegnante insegna e lo studente impara chissà qualcosa insegna quella cosa a chi non la sa e vuole saperla vuole conoscerla vuole imparare quella cosa è stato bura a farmi questa domanda allora gli ho insegnato bene questa cosa adesso non parlo a bura parlo a te bura adesso tu vai a fare un giro un attimo parlo agli altri secondo te gli ho insegnato bene la differenza tra insegnare e imparare secondo te bura ha imparato la differenza il verbo imparare non può avere il complemento di termine io ho imparato no non può averlo e tu hai imparato bene la differenza tra il verbo insegnare e il verbo imparare fammelo sapere nello spazio dei commenti grazie di cuore ciao grazie a tutti